Benvenuti agli speciali di approfondimento di Telenord e Tg Riviera dei Fiori. Oggi siamo con Giancarlo Manti, benvenuto nei nostri studi. Buongiorno. Consigliere regionale del Partito Democratico, Presidente della Commissione Cultura, Formazione e Lavoro, ma oggi parliamo di una cosa particolare. Una legge proposta dalla maggioranza, approvata all'unanimità, una legge che va a toccare un aspetto che ha riempito le pagine di cronaca in questo periodo e che ha destato molta preoccupazione. Parliamo del rischio delle infiltrazioni mafiose nel tessuto socio-economico, in particolare del ponente Rigule. È accaduto che nel giro di un anno due comuni sono stati commissariati, con delle accuse pesanti, con delle situazioni ancora da chiarire per alcuni aspetti. Voi siete intervenuti con questa legge, che è la prima regione forse che si muove in questo senso e che dà il via a una legge di questo tipo. Di cosa si tratta esattamente? Sì, posso proprio dirlo, la regione Ligure è la prima regione che interviene con una legge specifica per contrastare il crimine organizzato e mafioso e per promuovere la cultura della legalità. La nostra proposta di legge, che è stata proprio approvata nei giorni scorsi in consiglio regionale, è una proposta di legge del gruppo regionale del PD e che parte proprio da quello che si è verificato in questo anno nel ponente Ligure e dagli allarmi che sono stati lanciati dalle relazioni semestrali della direzione antimafia a livello nazionale e quindi poi di tutte le indagini che sono svolte. Noi abbiamo pensato di costruire una legge che mirasse appunto a far sì che la regione si dotasse di mezzi per contrastare questo fenomeno e potesse favorire come dicevamo prima la cultura della legalità. Certamente lo scioglimento dei consigli comunali prima di Bordighera e ora di Ventimiglia rendono ancora più impellente che questa legge che come diceva è stata approvata proprio l'altro giorno in consiglio venga attuata. I passi principali. I passi principali, ecco io mi sono parlato giusto proprio per ricordarmi le cose principali perché sono parecchi gli articoli di legge. La legge conta su due filoni essenziali. Uno appunto, come dicevo, è la prevenzione del fenomeno mafioso e che uno dei punti fondanti è l'istituzione di intesa col Ministero dell'Interno e degli enti locali della stazione unica appaltante a livello ligure e che quindi può dare più trasparenza in chiave proprio di contrasto ai fenomeni corruttivi. La stipula di protocolli di intesa con gli organi statali di sicurezza, la conclusione di accordi con enti pubblici e la collaborazione con le realtà tutte del terzo settore del volontariato, il sostegno ad attività educative e formative promosse dalla Regione, io questo ci tengo molto essendo anche Presidente della Commissione Cultura, da scuole, università o realtà private finalizzate proprio alla cultura della legalità. Un'importante è anche un osservatore indipendente per il contrasto alla criminalità e l'istituzione anche importante di una giornata regionale dell'impegno contro le mafie in ricordo delle vittime. Il secondo punto importante di questa legge, cioè del secondo filone vorrei dire, riguarda la valorizzazione sociale dei beni confiscati. Diciamo che c'è un dato purtroppo importante che sono già stati nell'anno scorso 42 i beni sequestrati in Liguria, le organizzazioni mafiose, per oltre 20 milioni di euro e questo è un dato. Quindi la valorizzazione sociale importante di questi beni confiscati, il sostegno, il patrocinio legale alle vittime di reati provocati dalle organizzazioni mafiose e la Costituzione, questo è un dato importante di parte civile della regione nei processi per i fatti di mafia avvenuti ovviamente nel territorio regionale. Ecco, queste sono le cose importanti. Ecco, adesso diciamo questo, i primi allarmi inascoltati per la verità anche magari dalle autorità che avrebbero dovuto avere forse un po' più di attenzione su questi fatti arrivano dal 95, i primi segnali. Poi c'è stata questa penetrazione nel tessuto socio-economico e voi oggi parlate di cultura della legalità. Una cultura, un'educazione nella cultura della legalità che oggi, cioè che da sempre ci si aspetterebbe che nel corpo politico sia già presente, cioè che chi va a fare politica, chi va a rappresentare i cittadini abbia già in sé questa cultura della legalità. Sappiamo che nella realtà non è così. Su 20 miglia voi avevate lanciato in particolare un allarme più di altri forse. Dari, questo è un dato molto importante. Purtroppo c'è stata in questi anni una sottovalutazione da parte di forze politiche e anche di forze sociali, imprenditoriali di questo fenomeno che si stava espandendo. Non per omertà, ma proprio per sottovalutazione. Non si poteva pensare. Però l'allarme è vero, è stato lanciato. Basta leggersi le relazioni semestrali che sia la direzione investigativa antimafia, sia la commissione parlamentare per la repressione dei fenomeni mafiosi ha sempre fatto e riguardava il ponente Ligure. Io a suo tempo, negli anni scorsi, quando sono stato segretario provinciale del Partito Democratico, l'avevo detto varie volte e purtroppo questi appelli non venivano raccolti. Adesso vediamo che cosa è successo. Sono dati di fatto, proprio in queste ore leggiamo le relazioni che sono state fatte per lo scioglimento in particolare del Consiglio Comunale di Ventimiglia, anche le relazioni che ha fatto il prefetto e la commissione d'accesso, dove si usano parole pesantissime nei confronti di amministratori locali. Questo non lo dico io, ma sono le relazioni che vengono fatte. Allora, collusioni, connivenze, sottovalutazioni, chiaramente ognuno le responsabilità sono personali, ma da un punto di vista politico, noi come Partito Democratico questo fenomeno l'avevamo già denunciato e abbiamo operato, tant'è vero che in questa relazione fatta dal prefetto si dice che gli unici due che hanno svolto, consiglieri, un ruolo di opposizione per quello che potevano fare, quindi di controllo, è stato svolto dai consiglieri del Partito Democratico e del Comune di Ventimiglia. Benissimo, ringraziamo per essere stato con noi il consigliere regionale del Partito Democratico Giancarlo Manti, grazie. Grazie e buonasera. Grazie a tutti. Grazie a tutti.